Le fiamme gialle del nugolo di pulizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo per quasi 5 milioni di euro nei confronti della società aquilana Accord Fenix S.P.A., operante nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti elettronici e di tre suoi dirigenti, responsabili del reato di indebita percezione di contributi statali. Il provvedimento di sequestro è giunto al termine delle indagini delegate dal sostituto procuratore dell'Aquila David Mancini, finalizzate a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'accesso e finanziamenti pubblici per il sostegno delle attività produttive di ricerca stanziati a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. Le indagini svolte dalle fiamme gialle hanno evidenziato che per l'acquisizione dei finanziamenti i responsabili della società avevano falsamente attestato di possedere, tra l'altro, quei requisiti minimi di innovazione tecnologica e di durevole capacità economica, previsti dal bando di Invitaria. In tal modo riusciva ad ottenere un contributo a fondo perduto per un importo complessivo pari a 10 milioni 725 mila euro per la realizzazione di un progetto del valore economico di oltre 35 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Un kossovaro di 51 anni ricercato per omicidio da 7 anni su un mandato di arresto internazionale per fatti avvenuti in Germania nel 2002 e stato arrestato dai carabinieri di Celano coordinati dal capitano Pietro Fiano. L'uomo è stato individuato tra la comunità kossovara locale cui aveva fornito delle false generalità mentre si preparava ad allontanarsi dalla marsica e colpito da un mandato di arresto internazionale messo nel 2012 dalla rappresentanza speciale del segretariato delle Nazioni Unite in Kosovo per l'omicidio della moglie uccisa a coltellate e per il tentato omicidio della figlia di una sua amica. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Avezzano dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'estradizione. La nuova maggioranza consigliare ha confermato la volontà di riprendere senza indugio l'attività amministrative di governo della città nel solco della condivisione delle scelte che si andranno ad affrontare e quanto afferma il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis che ha segnato le deleghe alla nuova giunta. Dopo le consultazioni dei giorni scorsi avute con i singoli gruppi consigliari, prosegue il primo cittadino, i consiglieri di maggioranza con senso di responsabilità, spirito di coesione e rinnovata determinazione hanno ritenuto di dare il via ad una nuova fase politica che vedrà l'amministrazione comunale impegnata a continuare nel grande lavoro di cambiamento della città. Questa la composizione della giunta con le deleghe assegnate. Crescenzo Presutti, vice sindaco con deleghe arredo urbano, attività produttive, società partecipate, politiche del lavoro e progetti strategici. Leonardo Cascere, urbanistiche e affari legali. Emilio Cipollone, ambiente, riserva del Salviano, protezione civile e sporte. Lino Cipolloni, polizia locale, viabilità, edilizia scolastica, personale, politiche sanitarie. Fabiana Marianella, lavori pubblici e patrimonio. Francesca Novella, università, pubblica istruzione e servizi sociali. Agata Spera, politiche culturali e pari opportunità. Il sindaco trattiene per sé le deleghe al bilancio, servizi demografici e informatici. L'istituto di istruzione superiore da Vinci Colecchi dell'Aquila ha vinto il concorso giornata di formazione a Montecitorio, grazie al progetto lavoro in corso di cittadinanza attiva e costituzione. L'attività conclusiva del progetto si è articolata in due giornate a Montecitorio. L'8 maggio studenti e docenti hanno svolto attività di ricerca nella sede della biblioteca della Camera dei Deputati. Il 9 maggio hanno seguito un percorso guidato all'interno di Palazzo Montecitorio assistendo alla seduta parlamentare. Hanno elaborato proposte per il territorio e formulato domande agli onorevoli Stefania Pezzopane, Valentina Prea, Rossano Sasso e Giorgio Alatini. L'esempio della campionessa paralimpica Paola Protopapa per i ragazzi della scuola media di Pizzoli. Questa mattina la campionessa alle Paralimpiadi di Pechino 2008, Paola Protopapa, protagonista anche della perdonanza celestiniana 2018 come dama della bolla, ha incontrato gli alunni delle scuole medie dell'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Pizzoli nell'ambito del progetto campo dell'integrazione. Paola Protopapa è stata intervistata dal capologo.it e seguiremo le sue dichiarazioni tra poco nella rubrica Il Punto.